La procura di Siracusa ha avviato un'indagine con l'assegnazione dell'incarico per l'autopsia per la morte di un detenuto avvenuta nel carcere di Augusta, ancora da chiarire le cause del decesso. Secondo quanto riferito, la morte sarebbe avvenuta la sera del 6 gennaio della Befana alle 19. Il detenuto avrebbe avvertito un malore, ha chiesto aiuto, l'agente di polizia penitenziaria è intervenuto, ma i soccorsi sono stati inutili. La salma dell'uomo è stata trasferita all'ospedale Muscatello di Augusta. La segreteria provinciale del SIP ha espresso cordoglio per la morte del detenuto e ha denunciato le difficili condizioni all'interno del carcere di Augusta, dove due anni fa morirono due detenuti, un italiano e un russo, in seguito a uno sciopero della fame.